a tutte le unità attenzione abbiamo perso l'obiettivo non ci sono più lanciati l'ha preso Angela Attenzione abbiamo perso questo obiettivo passo Perché mi sta già puntando Poi tiro da solo destra Che passo devo notare Obiettivo al sicuro, passo Sparo, sparo Guarda da dove parte il colpo Ma dai sono uscito Abbiamo neutralizzato l'obiettivo, passo Anzio quando ci vuole arrivare con l'elicottero? Dov'è l'elicottero che nasce? Il nostro sulla porta aeree Dai che spara Dov'è, dov'è? Stiamo da fregare nel nostro, capito? Vai giù però, Angela Cazzo, il nemico controlla tutti gli obiettivi Dobbiamo darci una cazza rimossa Cazzo Sperto, ho sbagliato Ho sbagliato il postone, cazzo 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 Sì, asci Eeeh Cazzo Cazzo Ah, stai col fagi di ottero Allora Ahahahahahahah Cazzo 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 Dove è rie Cazzo Cazzo Come? Aia Cazzo 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 Ugo Dimmi dov'è E' sto cercando Cazzo Cazzo Si Cazzo Cazzo no mi tacca giù e si entra in alto no angelo comunque io faccio questo e poi l'operation metro devo sbloccare devo salire passo non fa mai cadere in acqua ok vai giù merda vai giù merda devi esplodere sento che ti ammazzano e ti fregano guarda che è tutto rosso guarda che c'è non stai a fissare angelo guarda l'osso ahahah fucus attento che c'è angelo guarda l'elicottero stava a fissare sto maledetto si è fissato addosso secondo me guarda che c'è ma stai qua, cosa ti fai lì? attenzione abbiamo neutralizzato l'obiettivo l'obiettivo è neutralizzato, faccio nooo, cosa ne stai preso? nooo ho buttato la bomba prima mi sono ammazzato con la bomba pure cacchio sai che ti spara? non lo vedo cacchio ah, ma sei lì sotto porco cane, mica ti vedrei no, cacchio se vendevo a lanciare missi, penso che attenzione l'obiettivo è andato ooo, angelo ahahah erco di un dio, angelo facco non so quanto ragazzi oh figlia di... oh, boh, ora ce lo parcheggio qua oh, ce la faccio ce la faccio rinasce un po' su di me bucus ah, vieni pure tu, angelo vieni dove? sopra di te ah che ce la fai angelo, vai non ce la fa non ce la fa non ce la fa lo spaventa ahahah non ce la fa ahahah 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 ahahahahah ahahahahaha ahahahhaha ahahahahah ahahahahah Devo fare un po' di spazio per ripartire. Aspetta, devo fare lo spazio? No, no, aspetta, aspetta. Sali, sali. Sennò sali le scale che ci sarà l'altro elicottero sopra. Eh, lo vedo a tenere qui. Aspetta, è caduto, vai. No, aspetta, c'è ancora sezzo. No, no, ma ce la faccio a passare? Ma vado, lo spingo. No, no, non ce la fa, non ce la fa. Ehi, scioltezza. Aspetta, va. È finita la tua hegemonia, blocco. Ehi! Kuda id'esti? E' un'esplosione dentro il capannone E' nato, è nato Deve prendere la testa in giù con l'elicottero, giro parlo al contrario, come l'aereo No eh Ma cos'è che... siete in due voi Ma io vittor Ma è radente Attenzione il nemico controlla tutti gli obiettivi, passo Undici, quasi finita, dieci E' un'esplosione 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 Buona Ciao, Bernatè Grazie a tutti.